Entro l'estate sarà realizzato il piano di fattibilità del collegamento ferroviario L'Aquila-Marsica con l'obiettivo di migliorare la connessione con Roma, un collegamento che permetterebbe di allacciarsi alla tratta Pescara-Roma. La notizia all'esito di un tavolo operativo del gruppo di lavoro istituito tra Rete Ferroviaria Italiana, Regione Comune e Ministero delle Infrastrutture, volto proprio ad esaminare le ipotesi di un potenziale nuovo collegamento L'Aquila-Marsica al fine di migliorare le connessioni tra i capoluoghi dell'Italia centrale compresi nel clatere sismico in Roma. Erano presenti tra gli altri il Governatore della Regione Marco Marsilio e il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. È un'opera strategica che è entrata nelle priorità e della Regione Abruzzo e del Comune dell'Aquila. Insieme al Presidente Marsilio, all'indomani della presentazione del documento del Ministero delle Infrastrutture alle Camere in cui veniva previsto questo collegamento per cui ci eravamo battuti, abbiamo chiesto l'istituzione di un gruppo di lavoro, il gruppo di lavoro ha portato avanti le varie ipotesi di tracciato, abbiamo chiuso la prima fase, entro l'estate avremo il documento di fattibilità e quindi da quel documento capiremo qual è la soluzione migliore e anche qual è la necessità economica per fare prima il progetto di fattibilità tecnico-economica e successivamente speriamo reperire le risorse per realizzare quest'opera che diventa fondamentale perché si innesta nella Pescara Roma che è già un'opera prioritaria dello Stato e nel PNRR è stata finanziata la velocizzazione. L'obiettivo è quello di rendere il treno competitivo con gli altri mezzi di spostamento a partire dall'auto e quindi la riduzione del traffico veicolare ma soprattutto maggiori opportunità in entrata e in uscita dalla città dell'Aquila che la rendano sempre più centrale nell'ambito di questo snodo fra il Tirreno e l'Adriatico. Mercoledì prossimo ci sarà un incontro tra Marsilio e il Ministro Salvini, anche questo progetto sarà portato all'attenzione. Il collegamento diventa fondamentale anche alla luce dei nuovi flussi turistici che interessano l'Aquila e il comprensorio.